con punto it live del mercoledì sera ore 21 siamo online su facebook twitter e si twitter iniziamo bene facebook twitch e instagram vediamo vediamo se funziona tutto allora siamo online su facebook vedo che inizia a popolarsi vediamo vediamo se su instagram è tutto ok qui con noi c'è marco debona ragazzi qua c'è un builder leggendario oserei dire ciao a tutti i ragazzi ben arrivati a tutti quanti grande allora vediamo se parte la live su instagram che non la sto vedendo in questo momento allora ragazzi dateci dei feedback in chat o fulvio arsanelli è carichissimo è carichissimo questa sera grande vediamo non sta partendo la live su instagram instagram sempre rognusetto vero è assolutamente rognusetto assolutamente si fa tendere il maledetto per queste cose tra altre cose facebook è più macchinoso ma per le live sì 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 allora niente non parte scusate ragazzi come al solito i primi minuti di sì 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 vedo comunque gente carica su facebook c'è cristian sanna che saluto grande cristian c'è luciano sgarbi benvenuto benvenuto ragazzi stasera si parla di lego e di e di robottoni c'è marco che è un super super esperto vediamo se se ci fa vedere pure qualcosina anzi ve lo ve lo spoiler ci farà vedere qualcosina ci farà vedere qualcosina dei suoi ultimi lavori perché comunque è un bravissimo builder lego costruisce quindi delle delle mocc lego e soprattutto a tema robot quindi tanta tanta roba ragazzi allora io vedo che qua la diretta su instagram questa sera deciso di non partire quindi se mi date un 30 secondi cerco di di ripartire almeno almeno lì dovrebbe essere la diretta e portate pazienza eccola 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 è partita adesso ok ok è partita adesso va bene va bene sto tranquillo sono rilassato adesso perché il dramma quale è che devo partire e fare tutte queste robe qua ovviamente non funziona mai niente sì 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 già inizio a avere caldo ma guarda le peggio cose l'altra volta ci si è frizzato stream yard a metà discorso così è esploso tutto quindi non funziona più niente è un classico il bello della diretta ragazzi è quel pepe in più dai sì allora finalmente instagram funziona saluto tutti i ragazzi che ci seguono da instagram vi ricordo che se volete eh se ehm partecipare più attivamente alla live eh su facebook e twitch riuscite a scrivere meglio in chat noi vi seguiamo anche meglio quindi possiamo mettere in evidenza i vostri commenti e tutto infatti c'è dante che questa sera di solito è ospite insieme a me eh fa le live insieme a me e dice ah ecco perché non partire esatto esatto sì 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 siamo qua fulvio orzanelli sta eh anche su instagram cioè doppia live proprio si gode mattia medchild grande lotter che è il nostro davide amico che conosci marco che che saluta antonio cerrettis un salutone a tutti voi ragazzi benvenuti eh carmine biondi eh carmine biondi benvenuto cleric e va bene dai poi continuerò piano piano action figures ciao eri poccia il mainora il maino bene 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 io direi siamo siamo tanti molto bene io direi di iniziare bene ragazzi come dicevo live del mercoledì sera facciamo ormai da da diversi mesi queste live in cui andiamo ad incontrare dei personaggi del mondo del collezionismo e marco de bon è un personaggio che gira nel mondo del collezionismo da da parecchio vuoi perché è comunque un grande collezionista di robot e eh abbiamo visto in alcune pagine di cui magari marco poi ci ci parla eh tante tante foto delle recensioni fate comunque parecchia roba eh noi di recensioni pure ne facciamo tante sappiamo quanto è faticoso quindi rispetto per per chi comunque fa questo genere di cose e oltre a questo è una builder lego che che si è naturalmente specializzato nel settore che ama di più quindi robottoni eh robot anni ottanta ma ma non solo da da come vedo vedo anche dei modelli originali quindi eh crea fondamentalmente per chi non seguisse magari nello specifico il mondo dei dei builders lego crea delle opere lego originali e mh e le fa però con grandissima attenzione con eh un livello di dettaglio mostruoso bene l'ultimo prodotto l'ultimo lavoro l'ultima fatica di marco è il datantre abbiamo parlato su itacon e mh avevamo piacere appunto di invitarti e di fare quattro chiacchiere con te marco quindi benvenuto intanto beh grazie mille ragazzi per l'opportunità e penso che sia la prima live che faccio in assoluto quindi ah sì dai ti dai sono tutto sudato proprio vedi che roba no adesso siamo un po' tra amici sappiamo tutti vabbè magari c'è chi colleziona robottoni c'è chi colleziona action figure chi stato e siamo tutti in un stesso calderone dai nel calderone dei gennaio ma sì infatti ne parlavamo poco poco prima di andare in live comunque quella generazione lì che si è vissuta poi gli anni ottanta i gloriosi anni ottanta diciamo e poi successivamente anche con l'era magari più dei più più giovani tra virgolette con magari dragon ball e le serie nuove comunque diciamo e comunque tutti quanti siamo nella stessa pasta e questo è bello vedo un sacco di gente anche su instagram molto bene saluto tutti c'è il nerdaiolo hank tales buonasera il val 09 grande ironman poscina 22 daniele contratti che saluto bene 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 ragazzi se avete domande vi ricordo di scriverla naturalmente in chat vi lascio anche il reminder qui sotto così se vi viene in mente qualcosa scrivetelo e perché ovviamente c'è questa opportunità di fare quattro chiacchiere con marco che è molto esperto quindi fate domande a grafica e anche a me se volete molto bene io a questo punto a vabbè c'è william paghini che dice io impazzisco il daitan 3 non ci crede che esiste il daitan 3 il pattellego dante dice tutti qui per daitan sono tutti carichissimi alberto de bon non so se qualche parente non conosci e ignori l'esistenza giuseppe pino fra calvieri ti saluta insomma dai sarapipo broccanello dice robottazzi sono il top bene bene c'è ragione quel tipo lì è vero vero la salunga molto bene allora marco ti volevo chiedere allora come dicevamo se collezionista fotografo appassionato di robot anni 80 ma da quando è che ti sei appassionato anche ai lego beh allora come come tanti di noi lego è stato uno dei miei giochi preferiti di quando ero bambino preadolescente anche adolescente credo e poi sai come un po per tutti a un certo punto è finito un po nel dimenticatoio ho fatto spazio ad altri interessi così e altro io ho perso tutto con mio grande dispiacere pezzi vecchi non sono veramente idee dove siano finiti come anche il giocattolo di una volta e so che molti sono nella stessa situazione sì 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 io di lego di lego ne ho ancora però tutte sfuse cioè così completamente a caso ma anch'io sai io avevo compravo anzi mi regalavano i set ai tempi li montavo ci mi divertivo poi mi smembravo per farci altro le mie creazioni così comunque vabbè poi è passato lobby come come altri per tanto tempo direi una bella ventina d'anni buoni ecco e poi come dicevi giustamente io sono la passione dei robottoni quindi colleziono anche chogokin qualche action figure sono rimasto sempre un po in zona diciamo e contemporaneamente è rimasta sempre viva comunque la mia passione per per certi anime ma più per il mecha design mi sono sempre piaciuti come sono fatti i robottoni e trasformazioni e quindi mi sono piaciuti sia da quando da bambino li guardavamo da in tv con i super robottoni compagnia cantante i vari nagagliani mazinga gandhi mazinga doll drake poi la seconda ondata coi componibili voltus il ditanius il god sigma e ditan 3 e poi però a fine anni 90 diciamo che scusa prime fine anni 80 prima anni 90 quell'era lì che è stata nominata giustamente l'epoca dei super robot l'epoca d'oro dei super robot è abbastanza finita in italia perché non è che è arrivato chissà che certo però io sono rimasto sempre sintonizzato con questo mondo quindi tramite i fumetti oppure vhs ai tempi poi dvd mi sono sempre guardato anche qualche altra sono rimasto sempre sintonizzato qualche serie di gundam piuttosto che evangelion e guren lagann oppure ho ripescato robe che non erano mai arrivate in italia tipo uno su tutti i gun buster che mi è piaciuto moltissimo sono rimasto sempre in contatto legato comunque al mondo dei robot fondamentale si è sempre affascinato certo e poi ho cominciato a collezionarli una dozzina di anni fa forse anche qualcosa in più 12 13 anni fa diciamo fine dell'epoca vintage primi solo cio gokin anni prima nei mila adesso non vado vado a naso ok e niente continuando comunque a collezionare imparando a fotografare prima mi hai dato del fotografo ma attenzione ho esagerato mi sono appassionato molto diciamo allo still life cioè ovviamente fotografare oggetti inanimati soprattutto per fare recensioni per diversarmi con gli amici e fare le foto dei robottoni e dopo ho portato all'esterno la mia passione e basta e diciamo che gravitando comunque attorno a questo mondo fai conto una decina di anni fa mi sono imbattuto spesso diciamo anche in foto di mock di robottoni ovvero creazioni fatti da solitamente ovviamente giapponesi ovviamente ma anche qualche italiano anche qualche altra nazione che facevano magari robot originali o repliche e lì mi è caduto l'occhio immediatamente anche perché c'è william che dice infatti ragazzi andate a vedere la sua pagina fb marco toys è qualcosa di pazzesco subito la marche la marchetta no ma infatti magari mentre parli perché a me piace subito far vedere le cose io vi faccio giusto velocemente poi andiamo magari nel dettaglio vi faccio vedere che cosa fa marco perché di fatto magari qualcuno ancora non ti conosce questa è la sua pagina instagram e stiamo parlando insomma di opere di questo tipo e sono fatte in lego quindi insomma poi andiamo nel dettaglio parlare però guardate che robe che che riesce a fare marco è un fenomeno fammi fammi fare dei complimenti dal video grazie no veramente strepitoso davvero complimenti grazie grazie ragazzi questi qua sono un po quelli che roba che ho fatto proprio in corso di quest'anno ci ho fatto anche il gold reich qua ci sono varie forme varie misure questo è il gundam che ho messo su lego ideas che stanno andando piano piano a prendere un po di bottini il gold reich no no tanta tanta roba tanta roba torniamo dopo dopo ci torniamo era giusto per dare una mini panoramica ai ragazzi in chat comunque vedo infatti molta gente presa benissimo ale fix dice sei un fenomeno daniele paracchini dice per la nuova generazione dovresti fare un lego di peppa pig questo è il suo punto di vista è un'idea perché no perché no atapon dice pazzeschi insomma grandi complimenti ovunque direi sì 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 e il nerdaiolo dice pure vorrebbe tantissimo vedere dal vivo il tuo daitan perché effettivamente il daitan secondo me è mostruoso soprattutto sono molto curioso di chiederti delle trasformazioni di come di come l'hai progettato perché è pazzesco comunque vabbè dicevamo tornando al discorso della passione diciamo partivi con una bella base di passione dagli anni 80 in particolare i robot e diciamo che sei proiettato su lego come quando è come dicevo prima mi sono imbattuto su internet anche casualmente devo dire in creazione vedendo comunque questi artisti giapponesi insomma perché io mai mi sarei immaginato cioè a me sarebbe sempre piaciuto crearmi i miei robotoni ma come c'è capito disegnare non sono capace con i gampla non sono pratico e non è esattamente la stessa cosa cioè lì vai a amicciare automizzare non è che vai a creare il design eccetera e non non davvero non immaginavo che con i lego portati a certi livelli si potesse arrivare a costruire certe strutture che a colpo d'occhio ci fa anche quasi faticano a riconoscere che sono fatti di mattoncini invece è possibile insomma guardavo queste creazioni pieno di guarda la parola giusta è meraviglia ecco sai come i bambini quando aprono gli occhi c'è Cristiana che dice questa sera ci divertiamo e come i robottoni sono la mia passione quindi questa live è top sì 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 e quindi quindi meraviglia per quello che vedevo ma anche per l'idea che con il lego si potesse costruire cioè è fattibile fare queste cose con il lego e da lì è stato un attimo dire devo provarci anch'io e ci proviamo ti sei messo a sbriccare ti hai iniziato piano piano fai conto che come ti dicevo io pezzi in casa non ne avevo la mia bambina è nata successivamente quindi non avevo neanche che ne so fisicamente nessun pezzo nessun pezzo lego in casa e allora ho dovuto scaricarmi un programma il lego digital designer che come molti lo conosceranno infatti infatti c'era una domanda c'era samuele parravicini parravicini che dice usi ldd o fai tutto a mano che è un programma no no io guarda preciso subito che non uso più programmi faccio tutto a mano adesso adesso ok fai alla vecchia scuola proprio alla vecchia maniera allora a parte che ognuno ha il suo modo di costruire giustamente il suo modo come si trova meglio però per me era stato indispensabile il programma nel momento in cui non avevo alcun pezzo a casa perché da dove parto almeno lì parti con un database più o meno aggiornato diciamo così e però vai cominci ho cominciato un po a mettere insieme qualche brick ma anche ti assicuro che ci mi ricordavo i plate uno per uno per due però trovami davanti tutta questa massa di roba di pezzi disponibili perché non so se lo sapete io non lo sapevo ma hai un'idea di quanti sono i singoli pezzi lego quanti sono non ne ho veramente idea sono infiniti cioè se tu prendi la produzione dalla preistoria ad oggi di anche roba fuori produzione che non c'è più ma che c'è stata ok butti dentro il bionico e butti dentro i tecniche anche gli accessori per minifig che sono un miliardo superi 50 50 mila tipologie diverse di pezzi ma capito e io e tu nel programma ti trovi tutti quanti i pezzi o no no mi dicevi comunque non è sempre aggiornato io ti dico io credo che gli ultimi programmi con i vari aggiornamenti ci sia quasi tutto comunque però non sono informato su questo comunque c'è comunque tanta 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 roba certo se vai a guardare con il leo si fa tutto c'è fulvio orsanelli pure dice old school rules quindi è della vecchia scuola ci piace sta mi piace sta cosa che la fai alla vecchia maniera che ti metti lì a provare bello è anche più divertente forse o sbaglio ma per me sì ma poi ti dico avere i pezzi fisicamente lì ti dà due enormi vantaggi forse anche lo svantaggio che non hai tutti i pezzi disponibili del database ovviamente e più magari col programmino puoi farti una catata dei due metri spendendo zero invece i pezzi devi comprarli proprio certo però primo ti dà immediatamente l'idea delle proporzioni e della stabilità anche no della solidità vedi in diretta quello che sta facendo quello che sta venendo fuori ed è la prima cosa e poi un'altra cosa che per me è fondamentale è l'improvvisazione cioè se tu ti metti se tu usi il programma è molto probabile che tu abbia già un qualcosina in mente vai a selezionarti i pezzi magari li parcheggi lì in un attimo invece se sei dal vivo puoi anche che ne so ficcare una mano dentro un cassetto tirare fuori quello che c'è e da lì magari viene veramente fuori qualcosa che non ti saresti aspettato e perché però funziona certo è il scatteggio certo certo scatteggiare a piacimento o con un po di un attimino su come può venire e non è poca roba no 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 certo ti aiuta a volte magari a uscire anche un po dagli schemi prendendo pezzi che non avevi in mente però lo vedi lì che sta cadendo dal cassetto lo pigli ma ascolta ma tu dicevi che all'inizio diciamo non avevi pezzi ma poi piano piano ti sei creato un archivio immagino eh sì ma come perché qualcuno magari vorrebbe iniziare ma non sa come fare proprio perché non hai pezzi cioè ci stanno dei luoghi dei posti dei siti internet immagino in cui puoi ordinare il pezzo singolo puoi ordinare cioè li trovi online di base sono proprio dei blog di perdizione fai conto che sì certo ed è anche a me una domanda che mi fanno spesso ma dove li prendi pezzi perché sì si possono comprare i singoli pezzi lego scusi ci sono dei marketplace posso nominarli tanto ad esempio bricklink per dire una specie prendetela un po con le pinze una specie di ebay dedicato ai lego dove ci sono tutti i negozi quello ci ho messo un po le mani e mi ci sono perso è pericolosissimo pericolosissimo lì e lì cosa fai vai con l'idea dei pezzi che ti servono o anche no puoi andare anche sulla curiosare per vedere cosa c'è e metti nel carrello e via 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 e vi accorgerete che intanto la ricerca di pezzi presuppone che tu sai cosa devi andare a cercare non dico il codice il codice del pezzo perché sarebbe impossibile ma perlomeno come si chiamano le varie categorie di pezzi che anche quelle sono tante e perlomeno devi sapere ok mi serve un plate mi serve un tile mi servono dieci supporti che ne so e allora vai e all'inizio all'inizio quando non si sa niente di tutto ciò effettivamente è un po macchinoso bisogna perderci un po di tempo e io all'inizio ho fatto il mio primissimo robottone ma ti dirò prima ti ho detto che è stato più o meno dieci anni fa ma i miei primi esperimenti sull'ego digital designer sono stati terrificanti infatti io l'ho abbandonato lì per anni sono tornato dopo io sono tornato dopo cinque sei anni forse quattro anni mi ricordo perché mi stava qua aver abbandonato la faccenda e poi perché nel frattempo continuavo a vedere steccavo di mochi incredibili spettacolari voglio farlo anch'io come si fa e allora lì ho cominciato a studiarle un po meglio ho finito in quel programma il mio primo mac dall'inizio alla fine ho ordinato i pezzi l'ho fatto è venuto così così dai e da lì piano piano ordinavo i pezzi che mi servivano ogni volta e in più me ne ordinavo magari ne servivano due me ne prendevo otto e così facevo un po di magazzino ora come ora faccio solo tutto a casa ma non perché ho tutti i pezzi io finisco diciamo al 95 per cento il robot o la micro city perché mi piace fare anche le micro city sì diciamo quasi completamente diciamo che la forma è finita e mi mancano sulle qualche pezzo del colore giusto infatti da vedere sono a volte inquietanti perché sono colori dappertutto e quando però so che quel colore là poi andrà di questo colore o pezzoli è provvisorio so già insomma cosa deve venire fuori fantastico fantastico c'è c'è antonio che dice che anche lui tra l'altro è un builder e dice antonio cerretti non so se lo conosci dice aspetta con il lego si fa tutto no era questo il messaggio volevo mettere in evidenza il luogo di perdizione neofemismo si riferisce a bricklink poi dice infatti è l'inferno del contem banca ti dico ci ho curiosato anch'io e ho preso qualcosa ho preso la la ecto uno dei ghostbusters proprio lì perché comunque era uscita mai dal mercato si però lì si trova si trova facilmente e ho iniziato a vedere no ma poi anche questo no ma voglio anche questo ma voglio anche questo è la fine quindi non ti regoli poi ti dico per i builder ti assicuro che ancora oggi dopo che sono tre quattro anni che faccio mocc con molta continuità e ancora oggi quando vado a comprarmi qualche pezzo che mi serve che ovviamente se poi diventano moltiplicati per dieci nel carrello sempre l'occhio su roba che non ho mai visto certo certo sempre sempre perché sono veramente tanti tanti non ultimi non ultimi i maledetti accessori per le mini figlio che non sono secondari per le mocc anche più grandi perché danno dettaglio forme imprevedibili e c'è altro costano parecchio perché possono costare da sono più rari perché immagino più difficile reperirli può costare anche qualche euro all'uno anche per dire ma ma c'è atapon che da instagram dice ma come progetti parti da un'idea poi vai ad acquistare pezzi utili allora allora fai conto che io faccio come hai detto giustamente prima sia mocc originali i miei design originali sia robottoni presi da qualche tv show e li diciamo come farli sono due cose diverse perché a me piace moltissimo fare roba mia originale perché mai la libertà assoluta però allo stesso tempo devi avere poi l'idea da mettere giù nel senso qualche allora quello cosa faccio se devo fare un mio make originale ho già in mente in sostanza una gamma cromatica quali e quanti colori voglio mettere e a volte gli accostamenti sono anche imprevedibili nel senso che ne so c'è stata una volta che ho visto all'accostamento cromatico di una cucina che era grigio scuro e rosso bello aspetta ne faccio una fatta e prima devo partire con quello sia per cominciare a mettere a fuoco la cosa sia anche per vedere e cominciare a vedere che pezzi ho disponibili certo e detto questo quindi schema colori e poi due tre dettagli caratterizzanti perché sennò cominciano ci sono talmente tanti robot mac lego in giro set sì ma anche mock che sono una quantità devastanti in rete meno per dargli un tocco che non assomiglia a mille altri anche per una mia sfida dai che voglio però bollacci lo vedrai bene con quello con quell'idea attaccata sopra vediamo come farla quindi diciamo due due tre dettagli e poi vabbè la che scala deve avere la mia preferita sono attorno ai 20 24 centimetri sì questo è veramente il mio pane diciamo anche perché ho perso molto tempo inizialmente a trovare una struttura semidefinitiva non dico un frame interno però identificare quali no quali snodi possano garantire una una ottima tenuta una buona posibilità che ci puoi caricare sopra un sacco di roba allora non ho trovato a quella mi sono fatto proprio una linea a cui dato anche un nome fantastico infatti ma infatti marco a questo punto io visto che c'è la gente che scattita c'è dante che dice siamo curiosissimi vedere le creazioni di marco perché no pure qualcosa pure cos'altro colleziona quindi dice sempre lui a vorrei vedere il gurella gun insomma c'è la gente che vuole vedere roba e tra l'altro c'è anche cristiana che dice in questa maniera a te pura quando ti si riferisce al fatto che tu li fai comunque senza programma dice grande marco amici su facebook da molti anni avendo in comune la passione dei robot e collezionando shogokin quindi un salutone da cristian ciao ciao ci siamo già incrociati più di qualche volta grande il gurella gun ce l'ho qua eccolo qui questo è il gurella gun che ho fatto qui leggo aspetta finalmente allora io mi nascondo ti do tutto lo schermo così vediamo meglio purtroppo si è un po sgranato perché c'è la connessione che non è delle migliori probabilmente però accontentiamoci ragazzi e cioè non sembra poi soprattutto che essendo un pochino sgranato proprio farei fatica a dirti guarda è fatto in lego questo qua è pazzesco e vedi questo qua è allora il gurella gun è cosa degli anni 90 fino anni 90 però se ci guardate bene ha lo schema colori molto a blocchi selettivi no e questo richiama molto i super robot degli anni 80 che era la coscia di un tipo e la gamba di un altro e a colpo d'occhio secondo me nel lego funziona molto bene perché a una rapida occhiata tu riesci già a capire le proporzioni scusate il fantasinato tipo questa a colpo d'occhio sai che è la gamba che arriva da qua qua è capito invece a volte ci sono delle delle creazioni che tra l'altro io non sono qua se chiaro per criticare nessuno dico solo il percorso che ho fatto io che magari hanno un miliardo di dettagli sono fatte bene eccetera ma a colpo d'occhio non si capisce si capisce poco secondo me ed è per quello che ho adottato questo stile ereditato un po' dai super super robot ecco che pulvio dice in effetti ricorda molto i set anni 90 ecco è questo ecco c'è daniele dante dice io voglio lo voglio ma di questo ci sono le istruzioni marco se uno volesse curiosità allora io vi dico ragazzi ci ho fatto qualche istruzione gure lagana e anche optimus che ce l'ho qua anche qua non trasformabile sempre di qui però è sempre di questa linea che diciamo è super posabile molto stabile guardate ragazzi l'optimus prime che bomba che è cioè favoloso ma ci puoi far vedere marco anche un po gli snodi se puoi giusto per capire quanto effettivamente sei riuscito con i pezzi lego a renderlo snodato perché non è banale ragazzi non è per niente guarda che si vede allora guarda tipo la testa tutte le size la il braccio la spalla che ruota poi anche qua su che ne ho aggiunto un altro poi il gomito che va circa non a 180 gradi ma quasi scusate che cambio mano perché tutto in diretta ovviamente cioè ragazzi qua like a raffica su instagram fate like su facebook voglio commenti a raffica perché non so se vi rendete conto che lavoro che ha fatto marco cioè è snodatissimo è snodatissimo guarda però si piega così è pazzesco poi vabbè c'è praticamente nemmeno bandai con i chocokin riesce a farli così snodati non esageriamo però la bandai con i suoi solo vociogokin è stata mi ha ispirato molto nel senso che ho collezione tuttora ma vediamo che dietro di te c'è una discreta collezione eh sì è un'altra rogna questa come se faranno benissimo tutti gli amici collezionisti qua sì infatti io effettivamente cercavo una con i suoi vociogokin e robe simili perché anche altre ditte tipo max factory poi anche la uscima ultimamente sentinel post plus mi è sempre piaciuto studiare un po gli snodi sai come si muovono come funzionano e da lì probabilmente ho cercato di replicarli da lì ci metti anche la mia passione per per la fotografia quindi di cercare le pose più carine interagire con gli accessori a disposizione che ho fatto tutto si è unito in creazioni che faccio con quest'ottica fotografate con l'esperienza che ho accumulato con certo certo sì diciamo che hai fatto confluire nei set lego in queste creazioni lego originali tutta la tua passione per i robot il modellismo la fotografia cioè ha unito tutto e ti è venuta fuori sta roba che obiettivamente ha avuto anche un discreto successo perché insomma anche a livello internazionale so che sei conosciuto ma sì ma guarda poi nel giro dei robottari come si dice ci conosciamo un po tutti ecco c'è da dire che però da cosa un po di nicchia sai mi ricordo ancora in certe fiere qualcuno diceva qualcuno che passava ah guarda qua c'è la casa a qua c'è che ne so è la mocca dedicata a strange things ah i mostri ma come i mostri poi ovviamente passava qualcuno di più erudito e ci si ritrova un po su no però dicevo da da tre gatti che si era magari tre quattro anni fa e adesso siamo veramente tantissimi c'è una un'esplosione incredibile tecniche continue di 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 e ci sono anche dei gruppi facebook in cui vi consiglio brick mecca division che è fantastico in cui ho due tre anni fa lo lo guardavo perché c'è un sacco di tecniche a disposizione e ora sono onorato di essere anche amministratore da qualche da grande ma sono stato un fan di quel di quel gruppo da tanto tempo e lì c'è un pozzo di tecniche divise anche per album fotografici quindi ritrovate subito certo totale totale figata comunque sì di risorse di risorse online credo che oggi ne hai veramente infinite sia per diciamo ispirarti sia per trovare magari le tecniche ma anche per poi trovare i pezzi che cosa pure c'è questa cosa qua magari anni fa e ti parlo magari non so dieci anni fa non era così semplice cioè credo non solo quanta che c'è non lo so però un brick link non so da quanti anni esiste magari è una cosa comunque esplosa anche grazie a questi fornitori diciamo sì sì senz'altro tra l'altro brick link è stato acquisito dalla lego ultimamente ah quindi è proprio di proprietà perfetto da poco tempo e comunque quello che dici è giusto e a maggior ragione oggi mi trovo ad apprezzare ancora di più le mock che dieci anni fa mi avevano colpito perché anche dieci anni fa non è che c'erano c'era qualche pezzo abbastanza fondamentale in meno e questi qua dieci quindici anni fa perché io vedevo la roba di dieci anni fa ma magari ne avevano quindici certo sono tornato a riguardarmi e mi sono oh complimenti beh cavolo tanto di cappello comunque ti giro ti giro i mille complimenti che stanno arrivando nelle varie chat c'è atopono dice siamo al top c'è ghillo 78 che dice chapeau quando hai mostrato le articolazioni dell'optimus prime c'è manuel avellani che dice voglio dietro tre lo voglio subito adesso ci arriviamo perché pure quello bisogna che ce lo mostri per forza c'è cristiana che dice ma dai di che stiamo parlando sono in estasi alessandro orato dice grandissimo insomma ragazzi naturalmente ricordatevi se volete fare delle delle domande a marco approfittate perché come vedete è espertissimo e sarah pippo broccanello dice profonda conoscenza dei modelli goking portata sui brick assolutamente d'accordo tra l'altro sarah diceva anche con il gurren avevi vinto un contest goking vero allora fammi pensare perché tra gli innumerevoli premi che hai vinto fammi fammi ricordare perché ti spiego c'è stato un periodo dal 2013 per 5 6 anni in cui facevamo proprio dei contest fotografici a tema robotoni con i modellini erano stupendi eravamo sempre non in tante persone sì avevo vinto ma mi pare che quel gurren ragam fosse arrivato secondo una roba del genere ok ok adesso vado un po a memoria forse ne avevo vinto uno con il con il gundam con il gundam robot spirit certo vado a memoria sì comunque c'erano ragazzi spettacolari senti ma dai facci vedere solo da etan a sto punto se ci vuoi raccontare pure un po la genesi perché a me quello che affascina tantissimo è proprio un po ce l'hai raccontato no come parte non il progetto l'idea le tonalità dei colori interessante però effettivamente mi dico cioè ok parto voglio fare il da etan che è trasformabile tra l'altro guarda che cioè io non saprei veramente dove mettere le mani ma io vabbè io sono un profano però insomma mostracelo magari facci vedere non so delle parti che che ti ha dato in cui ti ha dato particolarmente problemi se ci vuoi far vedere addirittura una trasformazione se è fattibile in live allora guardate questo è il mitico 23 solo che è alto 34 centimetri faccio fatica a manipolarlo davvero comunque è questo qua ma sai che è proprio grosso cioè è una figata è più grande che ho fatto aspetta che mi allontano un po mi avvicino si metti esatto più al centro più al centro se si vede meglio ma che spettacolo è ragazzi ragazzi qua proprio commentate per piacere fateci sapere che ne pensate perché mi sembra mostruoso mostruoso dalle foto rende ma la la grandezza effettivamente un po te la perdi cioè proprio grosso volevo farvi vedere anche il dettaglio della faccia non so se si vede tra l'altro guarda quanto è snodato ci ha messo anche la faccina che si apre vedi la bocca ma dai scusa come hai fatto aprirla a no semplicemente ok l'abbassi l'alzi ok e ma il secondo cosa che stavamo dicendo prima prima ti ho parlato dei diciamo di design originali in questo caso come anche per il golder che vi faccio vedere anche il golder che aspetta che bravo aspetta che allora mi rispengo cioè c'è proprio la gente in essa si esce fulvio dice shut up and take my money ti vuole lanciare i soldi addosso proprio che cristiano dice qualcosa assolutamente straordinario anto dice che dire fantastico manuela vellani dice sono svenuto e nel frattempo canta daitan daitan ecco qua adesso vado a prendervi il goldrake che diciamo stessa modalità costruttiva del daitan eccolo qua questo è alto 32 centimetri invece perché tolgo le mie manacce vai 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 ammazza mai grosso comunque scusa è più grande del daitan no un po più piccolo il daitan è 34 34 ok vabbè siamo lì comunque ma che spettacolo che spettacolo ragazzi cioè qua marco hai fatto veramente due capolavori secondo me sono i più grossi che hai fatto questi questi due sì non mi ero mai avventurato in queste diciamo gandette però volevo farle certo e tra l'altro nelle c'è luciano dice daitan è il più grande anche realmente l'universo dei robottoni in scala ha ragione sì sì di quelli che conosciamo noi sì però non so se in scala con il goldrake che che hai fatto tu no 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 il daitan sarebbe una roba masco d'ontica tipo che sa di arrivare i belgi no che è una cosa impossibile da sì neanche da darci un'idea e comunque dicevo per quanto riguarda per quanto riguarda i robot di questo tipo cioè che devono bisogna replicare un po quello che si è visto in tv è una sfida diversa questa perché da un lato da un lato non hai la totale libertà creativa nel senso che non devi creare un design e quello è un vantaggio nel senso devo replicare una roba che c'è d'altra parte devi appunto replicarla devi andare a scegliere accuratamente i pezzi giusti che diano l'idea con tutti i compromessi del caso perché io ad esempio non è un caso che siano così alti questi se fosse stato per me li avrei fatti sempre sui 22 24 centimetri posabili tazzuti mi sa di goduto mondo però per questi due qua che sono due icone volevo fare qualcosa di un po più fedele per il goldrake per avere una certa rotondità perché come sapete i nagai anni sono praticamente dei tubi per quanto riguarda le gambe le braccia sono cilindrici no e nei lego non è per niente facile creare superfici del genere infatti questi robot che potrebbero sembrare apparentemente più semplici perché più piatti di dettagli no in realtà nascondono delle insidie non indifferenti diciamo che a volte nei lego avere la linea più più semplice più pulita costruirla non è detto che sia la cosa più semplice da fare non può essere molto complicato e infatti goldrake ha aumentato un po la stazza per farci stare un po' tutto però sai poi se alzi la stazza devi trovare un altro degli snodi adeguati a volte non è semplice perché ricordiamoci che i lego non hanno parti in metallo non esistono snodi in metallo non puoi fare i piedi in metallo o le gambe in metallo per bilanciare i pesi è tutto flat cioè tutto ha lo stesso peso devi essere tu che ti ingegni in qualche modo per bilanciare un po i pesi perché non esistono purtroppo snodi dedicati capito ci sono solo snodi che vanno dicendo quanto hai ragione lego e curvature non vanno d'accordo infatti conferma però è anche vero che c'è la scelta le possibilità sono discrete si trova sempre qualcosa che può funzionare un compromesso si trova questo per parlare del goldrake invece per parlare del daitan la cosa è stata più complicata lì volevo fare un daitan e che è il primo trasformabile tuo giusto a parte certi tragici episodi di gioventù avevo provato qualche anno fa ma era ero troppo acerbo era troppo presto adesso ho fatto primo diciamo ci sono state notevole gatte da pelare qua prima tra tutte comunque l'irrazionalità delle trasformazioni dei super robot anni 80 ragazzi lo sapete benissimo che ogni frame d'animazione era una roba diversa ma poi anche le trasformazioni erano davvero impossibili in mente uno a caso dal tango se mio preferito è impossibile ma infatti ci stanno dei modelli pure di bandai che io l'ho avuti sotto mano e veramente c'avevo il terrore cioè non sapevo veramente come muovermi all'inizio è un delirio poi piano piano poi magari se conosci il personaggio sai un pochettino come come dovrebbe essere un pochino c'è la c'è la fai naturalmente però insomma qualcuno è veramente complicato madonna non so se mi hai visto il gunbuster che l'ho citato prima la trasformazione del soul of shogokin gunbuster che è il gx 34 o il gx 34 r anche perché è stato ricolorato si è qualcosa di cervellotico direi cervellotico stato bello perché un anno a lucca lucca comics c'era uno dei designer dei mecha designer che costruiscono i chogokin e stava lì era tutto preso male tra l'altro un po' disagiato poverino io invece ero gasatissimo non vedeci volevo parlare e quindi facevo un po' di domande ma c'era tipo si nascondeva noi italiani no tutti carichissimi no così e questo invece tutto preso male sì 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 però un po' mi ha fatto ridere perché è proprio lo stereotipo sia dell'italiano che va lì tutto scalmanato e del giapponese invece tutto preso male madonna sto passo ricorderà la vita sì sì probabilmente traumatizzato non tornerà mai qui in italia grazie a me che bello ecco comunque tornando al daitan cosa sono le cose un po' irrazionali in sostanza sì c'è ghino infatti 78 che dice qual è la parte vincolante per creare un robot come daitan non so cosa intendono specifico vincolante però sì magari cos'è che sei che ti obbliga a fare a progettare il robot in un certo modo non so se c'è qualcosa che proprio dici no porca miseria mi tocca farlo così perché è inevitabile sì allora diciamo che per quanto mi riguarda ho sempre tre cose in mente l'estetica che nel caso di un creazione mia deve essere diciamo essenzialmente appagante nel caso di una riproduzione deve essere abbastanza fedele la stabilità e poi la posabilità proprio perché a me piacciono posarli fare delle porte eccetera nel caso del daitan come penso di tanti trasformabili bisogna appunto veramente la trasformazione quindi qua bisogna partire con qualche idea di preciso nel daitan diciamo il fulcro probabilmente è il bacino perché le gambe si devono comunque allargare così poi in caro armato si devono ribaltare però in die fighter in astronave non è che rimangono sul piano del busto ma vanno un po più in alto e lì bisognava lavorare ho fatto degli esenori adeguati a scapito della un po della posibilità in robot mod cioè si può muovere ma non fare le spaccate di sicuro certo e quello è stato il punto di partenza ed è stato un po rognoso veramente di mille modi ma alla fine questo è un compromesso accettabile direi che va bene certo poi da lì si parte io ho pensato un po all'inizio delle grane tecniche anche le spalline no che devono fare così tac tac che devono chiudersi certo in me io in mente avevo qualche esempio fisico ovvero il gx 53 infatti una delle domande che ti volevo fare era proprio se magari avevi preso ispirazione pure da questi modelli qua di bandai perché potrebbero tornare utili cercavo conforto che non si potesse fare senza compromessi allora ho visto sì che sia il bandai sia anche il ban presto che è un vecchio modello simpatico comunque ancora avevano comunque una marea di parti attacca e stacca ed è un mix di trasformazione a volte anche un po cervellotica come nel caso del bandai che comunque un modellino bellissimo posabile pieno di metallo pieno di accessori gioiello per me però ci sono dei compromessi e in particolare la zona zainetto beh scusate finito le spalline e guardate che cosa ha combinato bandai oddio marco ti sei ribaltato ok no 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 mi ha telefonato scusate eh tranquillo e praticamente bandai nel gx ha fatto delle spalline che si rompe si spezzano in due parti un casino un casino invece qua ho provato a tenere un pezzo unico però per via dico veniva effettivamente grande per quello che bandai l'ha spezzata per poi comprimerla e quindi ho allargato un po la spalla e di conseguenza anche la testa ho dovuto riproporzionarla un attimino per fare coincidere tutto è tutto un gioco di e la cosa fastidiosa che quando vai a ritoccare di uno stud cioè un'unità di misura lego sì una roba e non è che finisce lì poi stona in tutto il resto ti sbilancia tutto praticamente riapri tutto aggiungi a tutto uno no qua uno è troppo ritorna ma diventi pazzo ma che roba è una roba da parti infatti e poi sono andato avanti ma infatti scusa quanto ci metti cioè in linea di massima per fare un robot da zero nel senso dalla progettazione fino a dici vabbè ok è finito mi pare che ci ho messo tre mesi una roba del genere poi è chiaro che non ci sto via pensavo peggio pensavo peggio ma vabbè insomma ormai c'ho occhio per so so che che snodi usare che strategie usare e perché ho perso molto tempo in passato ecco certo ho accumulato un po di esperienza quindi so e però è vero che mi piace anche sperimentare quindi magari studi una soluzione diversa vedo come viene è tutto sempre da giocarsi però diciamo che by day time 3 più o meno tre mesi sì sì ovviamente una o due sere a settimana perché certo sempre le 11 di sera più o meno che tutti sono a dormire mia famiglia dorme allegramente io ho ancora un po di tempo per me e tiro fuori le mie cassettine da ferramenta ormai ne ho otto con pezzi dentro sulla cucina ormai di roba ne hai fantastico ascolta ti giro una domanda di Gianluca dice ma è più difficile lavorare su un progetto grande o uno piccolo sono sfide anche qua diverse però ti dico nel senso che con quelli grandi hai più superfici da lavorare quindi da un lato hai più libertà di costruire un design che hai in mente hai più spazio più pezzi grossi a disposizione però da un lato se fai un passo indietro lo guardi avere più superfici a volte anche un'arma a doppio taglio perché non deve dare l'idea almeno a me non voglio che dia l'idea di un giocattolone o che sia spoglio o che sia incasinato mettere una certa coerenza di fondo sul modello grande può essere può essere complicato certo invece versa ultimamente mi sono appassionato anche con il micro robot perché ho dovuto fare una sfida ho avuto provare a fare un robot sotto i 10 centimetri sì ce l'hai lì vicino dai faccelo vedere primo che ho fatto è questo questo è alto 8 centimetri e mezzo ma fighissimo e poi ho fatto che prendo anche questo che riesco a prenderlo meglio tipo così e questi qua per dirti su questa scala cambia completamente il punto di vista invece perché qua non è che puoi andarti a ricreare scusate esatto più ad esempio la testa con centomila pezzi la costruisci qua devi scegliere 12 pezzi che facciano da testa che sembrino una testa quindi cambia proprio il punto di vista una cosa una cosa a sé e poi è anche soggettivo come vi dicevo prima a me io vado matto per a scusate faccio vedere anche iso per questa scala o cavolo ci stavamo dimenticando dei gundam che aspettavo lo stesso frame di di optimus per dirvi la stessa struttura interna di optimus un po poi rivisto come fare qua il gonnellino che si muove che si alta questa quella è la mia scala preferita perché è un buon connubio per fare per me per fare un po tutto metterci scala src praticamente questo pure snodabilissimo quindi come optimus come un po più devi però tirare su quel gonnellino spostarlo che adesso no no lascio lascio fighissimo comunque complimenti davvero ma guarda marco intanto grazie per averci fatto vedere sti modelli noi ci abbiamo ci abbiamo verso la fine della live quindi guardo un attimo se ci abbiamo qualche domanda c'è daniele che dice prossimo progetto qua vogliamo lo spoilerone marco vogliamo lo spoilerone allora ti dico dai due due spoiler vai allora primo sto facendo un hangar che non so se è uno spoiler perché ho già messo qualche storia su un hangar perché è un ambiente che da un po che mi gira in testo lo provare ho trovato un po e la quadra della situazione mi mancano pochi pezzi quando voglia gli ordini e seconda roba siccome vi dicevo prima di scusa l'hangar per quali robot per capire la scala più che altro allora ho preso di misura i micro robot però ce ne stanno quattro potrebbe anche essere uno un po più grande e sarà predisposto per essere componibile quindi anche che ne so attaccarci in futuro un altro pezzo se mi gira lo faccio un po diverso un po più con qualche altro dettaglio insomma ok e poi siccome sto nel gruppo facebook che vi dicevo prima ogni ogni mese ogni due mesi c'è una challenge sì senza premi però che ne so questo mese le costruite un robot usando questo pezzo questo mese questo mese è il mese dei robot componibili ok è una roba super robot anni ottanta che con proprio due o tre astronavine che si finiscono e lì è un delirio sto contando di capire come tenerlo compatto però solido e posabile e mi verrà fuori una roba stile gaugai gar non so se avete come no come no come un spettacolo ecco le gambe che si inseriscono e altri castigli vari volanti adesso vediamo che figata beh non vediamo l'ora a questo punto di vedere nuovi nuovi progetti tuoi e anzi approfitto pure per ricordarvi ragazzi che marco ha pubblicato sull'ego ideas proprio il ditan 3 quindi qualora per assurdo riuscissimo a raggiungere il tot supporter a quanti 10.000 10.000 supporter potremmo effettivamente avere a casa nostra il ditan oppure il gundam oppure mi dicevi che era comunque ben ben quotato comunque sta crescendo piano piano oh sì sì sia ditan che il gundam sono là e piano piano stanno beh guarda il ditan l'ho messo cinque giorni fa è arrivato a 500 però l'esperienza dice che dopo il boom iniziale poi comincia pian piano e la scalata è dura ragazzi beh 10.000 sono tanti tanti e poi parliamo magari di ditan che è pure un pochettino più di nicchia per quanto in italia sia popolarissimo ma anche in giappone comunque credo che sia un pochettino più di nicchia sicuramente di più rispetto a gundam ma che è molto più internazionale sì sì infatti è tutta una sfida vediamo come va d'altronde ragazzi se uno non fa niente non succede niente giusto ma sì ma sì fai benissimo ma poi ti diverti ma poi ti diverti comunque un obiettivo e grazie a quell'obiettivo riesci a impegnarti a creare qualcosa di figo e già di per sé è una vittoria quindi comunque chiaro che poi il riconoscimento è sempre la bella soddisfazione da avere quindi te lo auguro spero che succeda anche perché poi lo li vogliamo anche noi qua a casa quindi va bene marco grazie ancora di nuovo non so se vuoi ricordarci dove dove trovarti allora io sono presente su tre social diciamo sono su instagram marco de bon su facebook ho la pagina che si chiama marco stoise sono abbastanza simili e poi flickr che come diciamo contenitore per il lego è eccellente è stato uno dei precursori diciamo e sono lì che sarebbe un sito di fotografia ma c'è una comunità lego gigantesca tantissime moque sono lì sono tutte in alta risoluzione quindi se uno mi chiede dove posso trovare le tue moque su flickr marco de bon le trovate tutte belle ordinate in alta risoluzione perfetto naturalmente ringrazio tutti i nostri amici in chat c'è cristian che è quasi quasi commosso da questa live dice vorrei non finisse mai questa live ragazzi orgoglio italiano fantasia arte professionalità complimenti veramente il cuore di tanti 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 complimenti c'è un saluto che arriva direttamente dai nipotini the bon quindi salutiamo anche io vi sarebbe fantastico fantastico che fulvio orsanelli fulvio orsanelli dice che figata comunque quando hai mostrato roba ringrazio tutti quanti insomma ragazzi per essere stati con noi in chat sia su facebook su instagram e twitch io marco ti direi a questo punto ci ci risentiamo magari prossimamente quando farai qualche qualche nuovo mock sicuramente parleremo su itagon di te come abbiamo già fatto in passato quindi tienici naturalmente informato informati per tutte le novità e niente vi ricordo appunto di andare su lego ideas a votare il progetto di marco così che poi magari riusciamo ad aver a portarcelo a casa bene vi saluto allora ragazzi come sempre seguiti sui social se qualcuno di voi che è stato in chat non è ancora nostro follower diventatelo fate mi piace la pagina mi piace l'instagram insomma seguiteci ovunque siamo su twitch su instagram da tutto quindi all'italcon collectors lounge il nostro gruppo facebook in cui potete condividere le collezioni quindi anche per questa live è tutto ci sentiamo alla prossima ciao da amaca e da marco grazie ancora marco grazie mille ciao a tutti ciao